Il perdurare della situazione di difficoltà di approvvigionamento idrico in più zone della città di Pescara ed il ripetersi di lamentele proteste da parte dei cittadini costretti a sopportare i disagi hanno spinto il sindaco Carlo Masci a inoltrare nelle ultime ore una lettera al presidente dell'ACA Giovanna Brandelli e al direttore tecnico dell'azienda acquedottistica Lorenzo Livello. Il primo cittadino di Pescara ha chiesto espressamente Vertici ACA un report dettagliato sulle problematiche in essere e un calendario del programma di interventi atti a scongiurare il ciclico manifestarsi di mancanza di acqua necessaria sia a scopo alimentare che sanitario e che si ripropone ormai a scadenze continue. Io ho scritto diverse missive all'ACA, mi sento costantemente con il presidente dell'ACA, l'ingegnere Brandelli sapendo anche che l'attuale governance non ha responsabilità rispetto a quello che sta succedendo. però lo stimolo è necessario perché l'ACA ci aveva detto che l'emergenza sarebbe finita intorno al 15 settembre, adesso questa data si è spostata al 15 ottobre, non vorrei che andasse avanti. Certo il problema della scarsezza dell'acqua nelle sorgenti c'è e ci sarà sempre in misura maggiore nei prossimi anni. Poi c'è il problema della rete idrica che è assolutamente obsoleta e lì ci sono risorse che stanno arrivando col PNRR ed è importante che l'ACA si attivi immediatamente. Queste sono le notizie che ho per far sì che si possano fare velocemente i progetti esecutivi per intervenire sulla rete idrica. Il problema non è solo della città di Pescara, sappiamo perfettamente che il problema è per tutta la provincia di Pescara e per buona parte della provincia di Chieti soprattutto per le città che si trovano sulla costa che sono le ultime a ricevere l'acqua delle sorgenti che stanno in montagna. Poi c'è il problema della pressione, oramai la pressione non arriva e non potrà più arrivare con i bar alti che abbiamo avuto in passato quindi bisogna organizzarsi. La logica della transizione ambientale è che ciascuno deve fare la sua parte sia gli enti pubblici, sia i privati e sia il cittadino. Quindi c'è un percorso virtuoso che dobbiamo attivare che parte dall'ACA e per questo la sollecitazione, poi passa per tutta una serie di soggetti che devono far sì che comunque si arrivi ad avere l'acqua nelle case. Oggi questo avviene con grande difficoltà e per questo è il mio intervento che sarà costante proprio per stimolare l'ACA ad accelerare tutti i processi per evitare quello che è successo in passato, che si pensasse più alle assunzioni piuttosto che alle reti idriche.